Ben trovati telespettatori di TV6 e appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 5 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo condizioni di instabilità su gran parte delle regioni del nord e in particolar modo lungo il versante tirrenico mentre sul medio basso adriatico e il sud in genere avremo condizioni di tempo generalmente più variabile. La ventilazione media proverrà dai quadranti occidentali e mari risulteranno mossi o molto mossi in particolar modo i bacini occidentali mentre risulterà poco mosso l'adriatico. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno stabili lungo la fascia costiera e instabili nelle zone interne con possibilità di pioggia e nevicata al di sopra dei 2.000 e 2.500 metri di quota. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche vedranno un ulteriore peggioramento con possibilità di deboli sconfinamenti fin nella fascia costiera e in particolar modo nel Terramano. Le temperature risulteranno stabili sui valori attorno alle medie stagionali. Nel corso della serata le condizioni meteorologiche non vedranno grosse variazioni con il tempo ancora instabile soprattutto sul versante occidentale. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!